allora dicevo mi hai detto che io sono una persona che pensa al ciclo e alla fase ciclica del mercato cioè perché tu sai che io mi aspetto un bear market perché mi aspetto quindi una fase ribassita del mercato ed è strettamente correlato in realtà ciò che ha detto anche il marchi il marchese ci troviamo in una enorme bolla in una bolla colossale e nel momento in cui quella bolla scoppierà siamo in bolla sia questo ovviamente il mio umile pensiero è siamo in bolla sia sul mercato tradizionale lo stiamo vedendo avuto dal 2000 da praticamente da marzo quando ci fu il crollo derivante della pandemia che si è decorrellata completamente sia quindi sullo stock market che anche sul mercato delle criptovalute bitcoin un anno fa quanto valeva valeva 20 25 mila dollari adesso vale 47 mila insomma e un mese fa ne valeva 67 mila soltanto in questo mese per chi ad esempio dice sì ma adesso ci sono gli istituzionali e va sempre a richiamare istituzionali fondi eccetera bitcoin è molto più maturo non ha più tutta quella volatilità vi faccio soltanto notare che bitcoin un mese fa si trovava all'incirca intorno ai 69 mila dollari oggi si trova intorno ai 47 mila dollari ed è praticamente un drop di del 30 per cento a 41 al 40 per cento il meno insomma in un solo mese abbiamo visto un meno 30 meno 40 per cento quindi maturo ok ma non ancora quanto quanto vorremmo in realtà quindi sostanzialmente io nel nel video vado a descrivere quello che è il mio parere semplicemente io non non mi trovo non mi posiziono né dalla dalla parte bullish cioè io non sono bullish del tipo ok andiamo per forza 100k e quindi do qualcosa di confermo qualcosa che in realtà non è non è cioè la garanzia di qualcosa che non è garantito ok assolutamente no come 100k tante persone danno per scontato qualcosa che appunto non lo è perché e non mi trovo neanche nella fase bear o meglio posizioni anche nella parte bear ovvero che mi aspetto per forza che adesso bitcoin continui a scaricare finisca finisce in un in un bear market no io mi trovo come detto bene ale in una fase mi trovo praticamente tra l'incudine il martello per così dire mi trovo in una fase neutrale il guardo il mercato giorno per giorno e in base adesso prendo e adatto adatto la mia strategia ok prendo le decisioni adatto la mia strategia ora come ora la mia strategia la mia posizione è avere un wallet più conservativo per nel mio caso io faccio vedere il portafoglio simulazione dove un anno fa ho avviato questo portafoglio eravamo all'incirca 7500 dollari 5 7500 euro dopo un anno ci ritroviamo con 120 mila euro quindi abbiamo fatto praticamente più di un per g un per dieci quindi in questo caso di grande profitto e in una situazione del mercato come quella attuale ahimè è bene andare a prendere profitto e mettersi in una posizione più conservativa anche perché se il profitto non lo prendi te poi se lo prende qualcun altro esattamente ricordiamoci che il mercato è un gioco a somma zero se c'è qualcuno che ci guadagna se qualcun altro che invece ci sta perdendo ecco se non lo prendo io quel profitto probabilmente lo prenderà qualcun altro perché il mercato delle cripte è un caso a parte è un mercato molto piccolo ancora quindi soprattutto nel 2017 però parlo dei mercati in generale c'era questa convinzione di tutti gli analisti che sarebbe arrivata questa grande crisi questa grande crisi non è mai arrivata siamo arrivati al 2022 e ancora oggi sento dire ci sarà questa grande crisi allora è vero che il mercato in bolla sicuramente poi a parte bisogna definire che cos'è bolla perché la bolla per definizione è qualcosa che non ha valore che sale tantissimo esplode crolla e non torna mai più al prezzo di massimo che ha toccato quindi già per definizione sia il bitcoin che i mercati tradizionali non sono una bolla se vogliamo dire che sono sovrestesi sono overprezzati rispetto a quello che valgono realmente anche lì mi viene un po' da dire sì è vero sicuramente che per esempio stavo guardando alcuni dati l'azionario tendenzialmente è quotato il 200 se non addirittura il 300% in più di quello che le aziende fatturano di quello che le aziende producono veramente quindi questo è un dato che va a confermare il fatto che effettivamente siamo sovrestesi e che quindi i prezzi sono molto alti però è anche vero che il prezzo lo fa il mercato cioè bitcoin ne parlavo l'altra volta tornando invece alle cripto bitcoin vale 60.000 dollari ora vale 47.000 dollari non è magia non è che c'è stato un movimento di magia perché l'ha detto plan b perché l'ha detto il ciclo perché l'ha detto l'alving lo fa il mercato se qualcuno compra il prezzo sale se tutti devono se tutti vendono il prezzo scende tendenzialmente bitcoin a 60.000 dollari come fa ad arrivarci se nessuno lo compra 55.000 come fa ad arrivare a 100.000 se nessuno lo compra 80.000 perché tutti lo vendono quindi tendenzialmente se il mercato quota un asset a un certo prezzo bisogna andare a capire quali sono le ragioni per cui quel prezzo è arrivato a quel livello secondo me è questo che noi dobbiamo chiederci non tanto a ma quale ma quale punto del ciclo siamo cioè no perché se siamo arrivati lì ci sono delle ragioni fondamentali secondo me potrebbe esistere tirimo senza bitcoin questa è più domanda da girgì mazzullo diciamo un po più beh è una domanda particolare cioè in in che senso cioè che non c'è più bitcoin o che di questo va in cantina e che ti non prende il suo posto se magari ti riferisci a questo cioè il punto è che già già la domanda o meglio comparare bitcoin a eter a eterium è sbagliato bitcoin è una cosa e tirium è tutta un'altra cosa fanno cose diverse sono nate con scopi diversi quindi già teoricamente sbagliata paragonare comparare queste comunque bitcoin a eter io bitcoin lo vedo lì e lo vedo per rimanere sinceramente perché è bitcoin e bitcoin bitcoin è l'idea ok su cui si basa l'intero mercato eterium è la regina delle altcoin però la grande differenza correggetemi se sbaglio è che eterium ahimè può essere sostituita in futuro soprattutto se non si dovesse dare una mossa con eter 2.0 con eter 2.0 mentre bitcoin non può essere sostituito perché bitcoin è l'idea tu non puoi sostituire l'idea la storia questo è quello che ho pensato io però eter in futuro teoricamente potrebbe eventualmente anche se chiaramente non si dovesse aggiornare essere al passo con i tempi magari potrebbe uscire una nuova tecnologia più avanzata e la subentra un altro discorso poi si è chiaro potrebbe anche uscire una nuova tecnologia più avanzata di bitcoin però già è diverso perché è proprio la filosofia di bitcoin dietro bitcoin che gli attribuisce quel grande valore al di là comunque della grandissima innovazione tecnologica sì anche perché poi come dice c'è eterium non sarebbe nato se non ci fosse stato bitcoin perché non non avrebbero probabilmente neanche neanche studiato insomma non avrebbero neanche capito che cosa poter le potenzialità di questo mondo perché non esisteva quindi è come scervellarsi diciamo che vitalik buterin ha creato eterium perché conosceva bitcoin probabilmente se no non avrebbe mai fatto no di questa valuta digitale perché ti doveva venire addirittura l'idea di creare una valuta digitale quindi non solo uno smart contract via dicendo che poi non solo tra virgolette eh valiamo c'è un grandissimo grandissimo personaggio eh il problema è che ehm ecco eterium allo stato eh allo stato attuale eh come dice come dice Francesco può essere soppiantato sì naturalmente però è sempre il discorso del primo però come tutte come tutte le cose ad esempio non so nel settore delle eh Nokia per esempio non so insegna eh non so se posso dire insomma vabbè non faccio più da nessuno e comunque ad ogni modo che succede eh Nokia che che era la prima per quanto riguarda gli smartphone poi a un certo punto è rimasta ferma mentre uscivano i eh gli Apple gli iPhone e altri smart e diventavano smartphone lei c'era ancora quel 3210 che c'era Snake che girava BB BB e poi che è successo? Successo che è rimasta ferma lì e dopo Nokia è scesa e sono saliti eh gli altri quindi sì eh se eterium naturalmente continuasse cioè se eterium insomma non si non si sveglia rischia non credo che questo avverrà insomma parliamo che ci sono tantissimi personaggi all'interno di eh eterium personaggi vali tantissimi sviluppatori io penso sempre che eterium troverà il sistema però naturale che si deve insomma deve stare a passo con i tempi E tu Ale che ne pensi? Ma sì avete detto tutto voi sono sono d'accordissimo poi alla fine eterium in realtà è un colosso eh enorme che non ha secondo me nessun problema a fare quello che dovrà fare per portare avanti questa tecnologia che comunque gira tutto su eterium per rispondere alla sua domanda no senza bitcoin eh ethereum non esisterebbe eh io ho fatto una puntata di storie incredibili che è la mia rubrica su youtube in cui parlo di Vitalik della nascita di eterium e Vitalik è innamoratissimo di bitcoin ed è da lì che ha avuto poi l'idea di sviluppare eterium che è l'altro appunto grande progetto di questo settore dire che non verrà sostituito in questo momento secondo me no è impossibile ora come ora più avanti probabile eh cioè probabile non è probabile è possibile potrebbe sì però cioè mh ethereum secondo me se farà la 2.0 e non so quando uscirà se se mai uscirà eh a quel punto diventa veramente qualcosa di un qualcosa di un colosso mostruoso cioè una google 2 del settore cripto perché a quel punto lì avrebbe tutto in mano e per fortuna che è decentralizzata quindi comunque questo è già una buona notizia la decentralizzazione di eter insomma